Itarian Pellegrini Grande movimento nello spazio Un salvataggio molto efficace Ottimo disimpegno, fondamentale Prova la conclusione E c'è il gol della Roma Angolto vi rimette in parità, sfida tutta da vita C'erano troppi giocatori sulla traiettoria L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi Non poteva arrivarci Fabio La Roma al calcio di punizione Eh da lì potrebbe anche trovare la porta Eh la difesa qui deve assolutamente evitare di concedere Ci prova E non lascia scoppio al quartiere Un gol Un tiro eccezionale Grazie a questo fallo adesso sono avanti La traiettoria sta